Distributore automatici di sacchi per la raccolta differenziata. Da giugno 2021 il comune di Pesaro, in accordo con Marche Multiservizi, ha deciso di installare in 12 punti della città delle cabine verdi dove i cittadini possono erogare i sacchetti per i rifiuti prodotti in casa. Nei giorni scorsi ci sono arrivate diverse telefonate che lamentavano una scarsa chiarezza nel come usufruire di questo servizio e noi attraverso foto e immagini cercheremo di essere i più esplicativi possibile. Quella in questione è una raccolta differenziata che è stata potenziata più di un anno fa sostituendo la classica consegna diretta alle utenze. Ogni cittadino residente nel comune di Pesaro deve dunque recarsi presso uno di questi 12 distributori potendoli utilizzare indifferentemente a prescindere dal quartiere di provenienza. Per usufruire del servizio è necessario autenticarsi con la tessera sanitaria dell'intestatario del contratto Tari passandola nell'apposita feritoia o avvicinando il codice a barre a lettore ottico. Una volta che sul monitor appare la scritta utente autorizzato basta cliccare sul tasto ok e il distributore procede con l'erogazione automatica. Per ogni quartiere a cui si appartiene c'è una tipologia e un quantitativo di buste erogabili diversa in base anche al tipo di raccolta che svolge Marche Multiservizi. Per esempio per gli abitanti di Pantano, Baiaflamini e Soria in cui attiva una raccolta differenziata porta a porta viene a loro consegnato per l'organico un rotolo di sacchetti ogni 4 mesi mentre per il secco residuo e per il multimateriale uno ogni 3 mentre per i quartieri come Borgo Santa Maria, Cinque Torre e Villa Fastigi in cui attiva la sola raccolta indifferenziata domiciliare viene a loro consegnato un rotolo per l'organico ogni 5 mesi. Gli apparecchi sono attivi 24 ore su 24 per permettere ai cittadini di ritirare i sacchetti negli orari a loro più comodi. Un tentativo di semplificazione della raccolta differenziata per rendere i cittadini più consapevoli dei propri consumi. Impianti tecnologici funzionanti ma che a volte hanno presentato qualche inghippo. Una signora per esempio ci ha contattati per segnalarci come la quantità dei sacchetti in un rotolo fosse diminuito. Informandoci abbiamo capito che non c'è stato alcun cambiamento nella gestione da parte di marche multiservizi ma è molto probabile che l'azienda che produce i sacchetti abbia accidentalmente sbagliato.